Una volta completata la nostra animazione e quindi il nostro lavoro, il passo successivo è quello di esportare la nostra composizione, il nostro lavoro appena terminato. Come si fa? Beh, allora, in primis dobbiamo selezionare la composizione che vogliamo esportare, andare sulla voce Composition o Composizione in alto nel nostro menu e cliccare sul pulsante Aggiungi alla coda di render. In questo caso, essendo in inglese, ho l'opzione Add to render quick. Una volta cliccato ci si aprirà il pannello della render quick, ossia la coda di render e qui in basso avremo la nostra composizione pronta per essere esportata, ma prima di far ciò dobbiamo guardare quelli che sono alcuni dei parametri che possiamo andare ad impostare. Abbiamo due tendine. La prima ci riepiloga quelli che sono i settaggi di esportazione, quindi la tipologia di qualità con cui vogliamo esportare il render, mentre la seconda ci fa un riepilogo sul modulo di output, ossia come genereremo e dove metteremo i nostri file. Cliccando su output to potremo decidere dove salvare il nostro file. Nel mio caso ho selezionato una cartella e possiamo dargli un nome. Nel mio caso il nome del file è lo stesso nome della composizione, ma possiamo andare tranquillamente a rinominarlo aggiungendo un nome di nostro piacimento. Un'altra opzione che possiamo fare in questo momento è decidere se salvare la nostra esportazione in una sottocartella. Questo perché nel caso in cui noi andiamo ad esportare un file video, After Effects genererà un file video, ma nel caso in cui decidiamo di esportare una sequenza di immagini è più comodo riuscire a organizzare il nostro lavoro salvando in sottocartelle. Nel caso in cui stiamo esportando un file video, di base questa voce è deselezionata. Infatti noi in questo momento con le impostazioni di base io ho selezionato il formato di file che è un file quicktime.mov. Da questa schermata infatti se fate caso non è possibile cambiare il tipo di esportazione perché si fa in un altro pannello dedicato che adesso andiamo a vedere. Nel frattempo sappiate che l'opzione per salvare una sottocartella di base è deselezionata quando andiamo a esportare un file video. Nel caso in cui selezioniamo l'esportazione mediante sequenze di immagini, qualsiasi sia l'estensione, questa opzione viene attivata in automatico e la cartella che verrà creata avrà lo stesso nome della nostra composizione. Una volta cliccato su salva naturalmente il render non è assolutamente partito perché dobbiamo ancora andare a settare le nostre opzioni. In primis abbiamo le impostazioni di render. Se noi clicchiamo sulla freccetta a fianco abbiamo dei template. Di base è sempre settato su best setting, ossia la miglior qualità possibile della nostra composizione. Se noi ci clicchiamo sopra ci si aprirà un pannellino che ci darà alcune informazioni. In primis la qualità del render che è sempre settata di base su best, quindi la miglior qualità possibile. La risoluzione di uscita full, nel nostro caso 1920x1080, ma noi potremo anche decidere di renderizzare alla metà, quindi 960x540. Possiamo dirgli di utilizzare o meno i proxy che ne abbiamo generato. I proxy sono dei render veloci fatti per poter lavorare più velocemente quando si hanno tante composizioni. Alle volte si può decidere che queste composizioni a cui assegniamo un proxy, facciamo generare un proxy, lo generiamo alla massima qualità. Quindi può essere comodo per velocizzare i tempi di render utilizzare i proxy. Nel nostro caso, ad esempio, o nella maggior parte dei casi, consiglio di non utilizzarli mai, ma di fargli eseguire sempre tutti i calcoli. Applicare tutti gli effetti, tutti quanti sì o tutti quanti no, e basterà continuare a leggere quelle che sono le impostazioni per capire che in automatico con la voce best setting ci esporterà un file con la massima qualità disponibile e come noi abbiamo settato tutte le impostazioni all'interno della nostra area di lavoro. Un'altra cosa importante è dedicata al tempo di esportazione, il famoso in e out, cioè quanti fotogrammi esporterà rispetto alla nostra composizione. Di base è settato su work area only. Cosa significa? Abbiamo due tipologie di opzioni, quindi esportare solo l'area di lavoro, oppure esportare tutta la composizione. Questa cosa è determinata da questo slider qui. Con questo slider noi andiamo a selezionare una determinata area di lavoro e quindi in questo caso, andando adesso ad esportare, esporterà solo questa parte, mentre se selezioniamo la voce tutta la durata della composizione, lui a prescindere da questo che è l'area di lavoro, esporterà tutta la nostra composizione. Di norma il consiglio che vi posso dare è di settare la durata della propria composizione per poi andare ad esportare solo quello di cui si necessita davvero. Infine abbiamo l'altro parametro molto importante che è il modulo di output, ossia come genererà il nostro file. Di base noi leggiamo la scritta useless, ossia senza perdita di dati. In questo caso noi praticamente andiamo a selezionare quello che è il codec di esportazione e nel primo caso quello di base ci dà un non codec. In pratica ci permette di esportare senza alcun codec, quindi alla massima qualità disponibile. Abbiamo una serie di preset se clicchiamo sulla freccetta a fianco e l'unico grande degno di nota è il lossless with alpha. In pratica quando noi lavoriamo ad un progetto di after effect abbiamo la possibilità di lavorare lasciando degli elementi con il canale alpha, quindi esportare un file che sia video o sia una sequenza di immagini che abbia un canale alpha con sé e quindi porti una trasparenza. Se noi esportiamo come lossless non porteremo con noi il canale alpha, se invece abbiamo bisogno del canale alpha dovremo selezionare lossless with alpha. Facendo in questo modo lui esporterà quattro canali invece di tre. I tre conosciuti sono rosso, verde e blu e il quarto è il canale alpha. Ma questi sono dei preset di base. Se noi andiamo a cliccare sulla voce lossless ci si aprirà un pannello e in questo pannello noi possiamo andare a personalizzare il nostro modulo di output. In primis il formato. Possiamo decidere se esportare un file audio perché è possibile lavorare anche dei file audio, esportare una sequenza di dpx che sono dei file utilizzati per la post produzione nel cinema e nella televisione, una sequenza di file if, una sequenza di file jpeg, un file mp3, una sequenza di file openxr, una sequenza di file png, photoshop, un file video con quicktime, qui invece troverete un file video AVI se siete sotto se state lavorando su windows e così via. Abbiamo ancora delle Radeon Sequence, SGI Sequence, Tiff Sequence, Targa e Wave. Ora tutti quelli che ho menzionato quasi tutti possono trasportare il canale alpha ma quello più comodo da utilizzare è esportare un singolo file quicktime. Nel caso in cui si preferisca lavorare con delle sequenze di immagini basterà selezionare una di queste voci e andando sotto nel pannello di output possiamo scegliere quali canali deve esportare. In questo caso è selezionato solo rgb quindi esporterà soltanto l'immagine a colori senza il canale alpha ma adesso noi clicchiamo abbiamo la possibilità di scegliere che esporti solo l'alpha da utilizzare poi in seguito come maschera o di esportare un file rgb più alpha. Qui abbiamo la possibilità di selezionare la profondità dei nostri colori e andare nel format option. Sarebbero le impostazioni del nostro formato. Nel nostro caso abbiamo selezionato una sequenza png e abbiamo la possibilità di selezionare il tipo di compressione se interlacciata o non ma se andiamo a selezionare ad esempio un file quicktime abbiamo la possibilità di poter decidere la tipologia di codec e in base alla tipologia di codec ci si attivano altri parametri. Quando selezioniamo un file lossless che sia con quicktime o che sia in formato avid after effect esporterà con questo codec che è il codec animation che in pratica non porta alcun tipo di compressione quindi sarà il file il file generato sarà molto ma molto pesante. Una volta definite le nostre impostazioni di esportazione ci basterà cliccare ok e così la nostra coda di esportazione sarà pronta per essere esportata. Da considerare che nello stesso file di after effect noi possiamo esportare più composizioni contemporaneamente o meglio non contemporaneamente ma mettendolo in coda di render quindi possiamo inserire più composizioni da esportare all'interno della nostra coda e lui una per volta le esporterà. Per esportarle ci basterà premere il pulsante render ed attendere che il calcolo sia finito. Grazie a tutti. Grazie.